Buonasera a tutti, finalmente l'aspettatissimo Accanto Beach Club, rinaugurazione ufficiale per la stagione estiva 2018 Ciao City Now, benvenuti qui all'Accanto Beach Club, all'opening dell'Accanto Beach Club E' stata una serata fantastica, la vista era piena grazie alla nostra ospite, la DJ Carolina Martinez Like I do Avremo tantissimi appuntamenti e naturalmente puntiamo come ogni anno alla serata del 14 agosto. Sì, 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 sì. Passo la serata qui al mio DJ, Mr. Pietro Verducci. Che ci vuoi dire? Niente, bellissima serata. Grazie per avermi dato questa opportunità. Bel locale, belle serate. Complimenti. Un saluto anche al City Now. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti di questa stagione estiva. Ciao City Now! Yeah! CD Now! Oh yeah!